buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è venerdì 30 agosto 2024 siamo pronti per così dare un'occhiata ai giornali e vedere le notizie del giorno quello che hanno pubblicato il resto del carnino e il corriere adriatico con le cronache locali come sempre però passiamo prima attraverso dal manaco del giorno e vediamo chi si festeggia oggi sono due i santi in calendario si tratta dei santi felice e adauto felice romano presbitero visse ai tempi di dio cleziano rifiutatosi di sacrificare al tempio di serapide fu condannato a morte mediante decapitazione e mentre lo portavano sul luogo del supplizio sulla via ostiense un cristiano si avvicinò dichiarando la propria fede anche lui disse io sono cristiano e per questo fu martirizzato anche egli il suo nome è rimasto sconosciuto in realtà non si sa come si chiamava ma fu chiamato ad auctus ovvero aggiunto era un uomo aggiunto un qualsiasi cristiano che per manifestare la sua fede fu martirizzato ebbene entrambi felice e adauto furono sepolti nelle catacombe di comodilla presso la via ostiense dove sorse anche una cappella in loro onore quindi se passate se da se da roma andate verso ostia può darsi che ritrovate nelle catacombe di san di comodilla non so se santa comodilla il comodilla ha bene la tomba di questi due martiri vediamo ora le previsioni del tempo è ancora bel tempo lo vediamo dalla grafica stabilità prevalente sulle marche con cielo sereno oppure poco nuvoloso le temperature sono ancora alte 22 la minima 31 31 la massima 20 a regime di brezza sulle coste da nord nord ovest nell'entroterra da nord est il mare leggermente mosso il sole sorto alle 6 e 17 e tramonterà alle 19 e 49 e allora apriamo i giornali a partire oggi dal resto del carlino e vediamo se si risolve la vertenza intentata dagli autisti degli scuolabus siamo vicini all'anno scolastico questa non è la prima volta che ci sono problemi per quanto riguarda il trasporto scolastico non nei confronti dell'amministrazione comunale ma nei confronti della ditta che ha assicurato che ha ricevuto l'incarico di svolgere questo servizio busse scolastici autisti e assistenti non pagati sono una ventina quelli che aspettano vantano ancora due mesi di arretrati da parte dell'azienda privata lo stipendio di giugno e il tfr comune sindacati sono al lavoro per riuscire a recuperare queste somme intanto il comune è stato invitato ad anticipare perché ha offerto la sua garanzia lo stipendio a questi lavoratori per gli autisti degli scuolabus in arretrato dello stipendio di giugno e anche del tfr sono persone assunte a tempo determinato quindi non è che hanno molti obblighi ebbene il comune ha attivato l'iter della surroga e quanto fa sapere l'assessora ai servizi educativi e loredana maghernino che ha detto l'intervento è finalizzato a garantire direttamente ai lavoratori il pagamento delle retribuzioni dovute per la loro attività dopo di che il comune ovviamente si rivarrà nei confronti della ditta la filte cgl che ha messo in evidenza questo problema e si è rivolta all'amministrazione comunale ha chiesto di fare chiarezza su tutta la situazione di questi lavoratori si parla di una ventina di persone tra assistenti e autisti tutti a tempo determinato l'amministrazione comunale aspetta di scoprirlo all'ultimo giorno questo problema hanno detto hanno detto i sindacati comunque risulta che l'amministrazione comunale si è già attivata la rassicurazione che tutti i lavoratori della ditta avranno i loro soldi rassicurazioni che a metà luglio aveva dato anche il sindaco luca serfilippi ma da allora ancora la situazione non è stata risolta vediamo anche l'articolo a fondo pagina musei chiusi lunedì tarsi cambiamo passo lucia tarsi assessore alla cultura interviene sulla gestione dei beni culturali e cerca un po di uniformare l'orario di attività l'orario di apertura al pubblico di musei di siti archeologici insomma di quelle fonti attrattive del turismo culturale che svolgono una importante adesione per quanto riguarda l'attrattività turistica visita ai siti storico culturali cittadini si presenta un biglietto unico ecco se io acquisto un biglietto per visitare gli scavi di santo agostino posso con questo visitare anche il museo della flaminia per esempio che si trova nei pressi dell'arco di augusto oppure il museo civico del palazzo malatestiano oppure il museo diocesano perché esiste benissimo un accordo tra la diocesi e il comune di fano per coordinare tutta l'attività museale turistica del nostro territorio musei chiusi lunedì e beh perché lunedì deve essere un giorno così completamente assente dal calendario delle attrattive turistiche e l'assessore alla cultura lucia tarsi che è subentrata in corso d'opera così possiamo definirlo perché insomma già il programma dell'attività estiva era già stato impostato dalla giunta precedente intende cambiare registro per il prossimo anno e vedremo vedremo se ci riuscirà e vedremo se verranno veramente alla luce tutti quei cambiamenti in modo particolare anche il biglietto unico sulla sulle attrattive della flaminia sono anche qui emergenze archeologiche musei eccetera basterebbe acquistare un biglietto per visitarle tutte ma insomma questo è ancora di là da venire speriamo però che si riesca a ottenerlo piscina scoppia un tubo allagati bar e cucina la piscina è quella nuova che è stata realizzata dalla fondazione Carifan inaugurata da poco tempo proprio nei giorni scorsi c'è stato il collaudo dell'impianto di aereazione ma ieri mattina anzi ieri notte è scoppiato un tubo nell'intercapedine tra il contro soffitto e il soffitto sono precipitate due tre formelle nel nella cucina del retro bar e allagato diversi ambienti un danno piuttosto considerevole per fortuna non si sono verificati danni alle persone perché il caso si è verificato di notte ma al mattino quando alle 6 e 30 il bagnino che è in servizio alla piscina ha aperto i locali si è visto già l'acqua penetrare nella hole e ha capito subito che qualcosa era accaduto la piscina comunque a quanto hanno riferito i tecnici ieri ha continuato ad operare perché l'acqua non ha interessato l'ambiente delle piscine e degli spogliatoi però insomma si è cercato subito di correre ai ripari e ovviamente tutto poi verrà così re di contato all'assicurazione che dovrà un po' risarcire i danni per quanto accaduto vedremo poi come a questo argomento il corriere adriatico dedica l'apertura su fano vediamo qui parliamo di immigrati parliamo di immigrazione quando parliamo di immigrazione non ci riferiamo soltanto agli africani oppure alle persone che dall'oriente vengono in italia magari anche con mezzi di fortuna secondo un turismo così abusivo illegale così come viene definito ma ci sono anche i parenti degli italiani che a suo tempo emigrarono in america che cercano di riscoprire le loro radici dall'ohaio a fano sulle tracce dei diottalevi ebbene qui è una persona che ha 81 anni si chiama eugene e ha un figlio anzi un nipote che si chiama eugene junior detto gene ebbene entrambi visiteranno presto fano il suo entroterra nell'intento di ricongiungersi con la loro famiglia perduta per eugene che oggi ha 80 anni sarà un ritorno 70 anni dopo il primo viaggio in italia allora era molto molto giovane è stato questo l'unico viaggio che ha compiuto in passato per riscoprire l'ambiente da cui sono venuti i suoi genitori che poi sono andati in america ora ovviamente integrato in tutto il sistema americano però il suo cuore batte ancora per il nostro territorio qui vediamo un po delle fotografie di questi personaggi vediamo qui anche una fotografia storica sabatino di otalevi emigrò da cartoceto negli stati uniti negli anni 30 lo vediamo qui con una fisarmonica fisarmonica è un po lo strumento come ci ricorda mondolfo del nostro territorio passiamo dunque alla no prima fermiamoci un attimo per una per un evento che si svolge questa sera ebbene questa sera nella chiesa di santa maria nuova c'è il gran finale per i concerti d'organo che sono un evento che viene replicato anno dopo anno possiamo dire dall'immediato dopo guerra gran finale per i concerti d'organo a santa maria nuova con una assoluta novità per l'Italia si tratta dell'opera orchestrale The Planets dell'inglese Gustav Holtz della versione per organo che richiede la partecipazione di due esecutori questo veramente è un capolavoro senza tempo ripreso in molte produzioni cinematografiche e teatrali veramente questa è un'opera che Fano finalmente ha la fortuna di vedere eseguita appunto a santa maria nuova vi ricordo che l'appuntamento è alle 21 e 15 e che l'ingresso è gratuito insomma questo è veramente un appuntamento da non perdere ed ora passiamo a Pergola dove c'è una levata di scudi da parte di alcuni comuni per impedire che nel nostro territorio si realizzi un devastante per l'ambiente impianto eolico eolico a piani rotondi no difendiamo l'area è il titolo appunto che appare sul resto del Carlino i sindaci di Pergola, San Lorenzo in campo, Fossombrone e Fraterosa si pongono contro il progetto per questo impianto costituito da 5 grandi pale e 5 aerogeneratori da 200 metri realizzare questo sulle colline nei pressi del borgo di Montevecchio di Pergola è veramente un attentato al territorio l'impianto da 30 megawatt sarebbe costituito da 5 aerogeneratori da 200 metri altri 200 metri pensate che altezze raggiungono la giunta comunale pergolese si è già espressa chiaramente con una delibera che dice no alla realizzazione di questo impianto andiamo a Mondolfo, vediamo come a Sant'Agostino si proiettano i ricordi di come eravamo di come eravamo negli anni 30, sì mi sembra che sia questa l'epoca che viene rievocata è un progetto comunque nato dalla raccolta e dal restauro di una moltitudine di fotografie e di filmati del territorio di Mondolfo e di Marotta tra il 1938 e i primissimi anni degli anni 60 il tutto verrà proiettato dalle 19 al chiostro del complesso monumentale di Sant'Agostino quindi chi vuole rivedere la sua fanciullezza almeno per chi ha una certa età o vuole vedere com'era il nostro territorio un secolo fa o poco o poco più insomma può vedere appunto, può assistere a questa proiezione e vediamo qui la fotografia invece dell'assessore alla sanità regionale Filippo Saltamartini che parla di Cagli, parla di Cagli e delle strutture ospedaliere di questa località stiamo attenti alla sanità cagliese, dice Saltamartini investiamo quasi 15 milioni di euro nella cittadina e realizzeremo un nuovo ospedale di comunità e la casa della salute investimenti considerevoli che sorgeranno nella stessa struttura di via Meucci ha dichiarato appunto l'assessore vediamo ora anche come il resto del Carlino apre su Pesaro apre per quanto riguarda la festa dell'unità che si sta svolgendo a Baia Flaminia ma più che il resoconto politico del dibattito che c'è stato insomma un dibattito interessante perché ha coinvolto, ha attirato tantissime persone c'erano i due Matteo, Matteo Renzi l'ex sindaco di Pesaro c'è Matteo Renzi il noto politico ex sindaco di Firenze ebbene più che il dibattito politico che ovviamente viene anche recensito viene anche commentato in questo articolo risalta però l'aspetto gastronomico perché insomma anche la festa delle unità è una festa dei prodotti tipici del nostro territorio è una festa per stare insieme ebbene superati in una sola sera gli incassi totali del 2023 non solo politica dunque ma anche tagliatelle, piadine, grigliate trionfano come sempre nel giorno d'esordio scorte finite visto l'unità funziona anche a tavola insomma non avevamo dubbi oggi l'ospite più atteso invece a questa iniziativa è Maurizio Landini segretario della CGL interverrà alle ore 20.45 e converserà con Agnese Pini che è direttrice del quotidiano nazionale quello del resto del Carlino sul tema dell'autonomia differenziata un tema che il Partito Democratico contesta apertamente nei confronti delle decisioni del governo che ha voluto questa legge per la quale si preannuncia un referendum abrogativo Spacca, grazie Ricci ma nel 2015 siete stati voi a non volermi più ebbene il nome di Spacca è ritornato per una riproposizione alla guida della nostra regione Spacca dopo aver compiuto due anni di mandato due legislature di mandato il quale presidente delle regioni Marche sperava fare anche una terza ma poi è stato il PD a non volerlo più candidare e ora insomma a volte ritornano così come si dice e il nome di Spacca è tornato e qua lo vediamo in una foto insieme a Ceriscioli e a Matteo Ricci insomma l'intelligenza del PD che ritorna Bolli Auto, monta la rabbia assurdo farci venire fino a qui ebbene un problema è sorto per quanto riguarda il pagamento dei bolli auto che non è stato effettuato la regione ha inviato a tutti coloro che si trovano in queste condizioni una raccomandata dicendo di pagarla e di andarla a pagare in una ditta a cui ha affidato l'incarico del riscussione si tratta della ditta Post Service Group che ha allocato a Campanara migliaia sono stati pesaresi che nelle scorse settimane hanno ricevuto questo avviso per ritirare una raccomandata che giaceva in questi uffici però trovare dove era questa società è stato veramente un dilemma un dramma perché nell'avviso della regione l'indirizzo non c'era qualcuno ha provato a chiamare alla società che aveva una sede addirittura in provincia di Bari le risposte sono state evasive e ci sono stati dei problemi appunto le cui proteste vengono evidenziate da questo articolo allora chiudiamo il resto del Carlino per aprire il Corriere Adriatico ed eccola qua l'apertura su Fano che vi avevo annunciato nella piscina crolla un controsoffitto danni alla cucina e invasione d'acqua vediamo qui una foto che viene pubblicata in prima pagina è una foto orizzontale che si vede bene come l'acqua insomma anche con i calcinacci del controsoffitto abbiano invaso l'ambiente retrostante al bar della nuova piscina nuotiamo rovinando un po' i superlettili ma anche i mobili gli impianti che facevano parte dell'arredo di questo ambiente per fortuna come ho anticipato nessun ferito perché il crollo si è verificato di notte però insomma bisognerà appurare perché è avvenuto sto crollo essendo stato fatto il collaudo pochi giorni prima e tutto era risultato regolare probabilmente una saldatura che non ha tenuto un materiale forse che non era all'altezza di quanto ci si aspettava ma sono soltanto ipotesi anche il Corriere Adriatico pubblica l'articolo sugli scuolabus il Comune garantisce che all'inizio dell'anno scolastico tutti gli scuolabus saranno in funzione e non ci dovrebbero essere problemi per i bambini per raggiungere gli edifici scolastici e i lupi parliamo dei lupi perché questi lupi di tanto fanno una capatina a fano gironzalano per la città senza per fortuna creare problemi ebbene questa volta sono stati notati da una signora al vallato hanno urlato ma non erano aggressivi è il racconto della donna che li ha visti il naturalista Gori che troviamo spesso a casa Archilei dice il predatore ha paura dell'uomo convivenza possibile quindi non abbiate paura non fate mosse così molto evidenti tanto da suscitare la reazione dell'animale se per caso lo incontrate cercate di allontanarvi tranquillamente lui farà la stessa cosa due lupi comunque sono stati avvistati da una donna davanti alla chiesa di San Paolo a Fano nel quartiere del vallato poco dopo la mezzanotte di mercoledì scorso camminavano tranquillamente non erano aggressivi probabilmente una femmina ha perso l'orientamento oppure cercava da mangiare perché probabilmente si trovava in difficoltà questa mattina passiamo ad un'altra notizia c'è un appuntamento alle 9.30 davanti alla Darsena Borghese che cosa accade in questo magnifica cornice ebbene ci sarà il passaggio di consegne tra il tenente di Vascello Stefania Battista comandante dell'ufficio circondariale di Fano che lascia il suo incarico e consegna appunto la gestione del porto alle tenenti di Vascello Maria Giovanna Trombetta la tenente Battista è stata destinata alla direzione marittima di Reggio Calabria una bella cerimonia una bella cerimonia a cui interverranno le autorità ci sarà il passaggio delle consegne due donne che si avvicendano appunto alla gestione del porto in passato già una donna aveva gestito l'ufficio circondariale di Fano e Stefania Battista lascia un po' la nostra città con un po' di rammarico ha detto che qui ha trascorso due anni molto belli due anni di impegno ovviamente per l'incarico che ha dovuto gestire e ha parlato anche dell'isola ecologica e del dragaggio quali due importanti provvedimenti che debbono essere assunti nel porto di Fano e a cui dovrebbero attendere la regione Marche e il comune stesso nei confronti dei quali la documentazione è stata presentata è stata consegnata passiamo a Fossombrone il parco Carloni è un luogo di salute al via la campagna sportiva sono stati stanziati dall'amministrazione comunale 20.000 euro per dotarlo di attrezzature e attirare praticanti di corsa e ginnastica un bel percorso di salute nella bella area verde del parco Carloni di Fossombrone invece sempre a Fossombrone vediamo che si sta organizzando un nuovo tour alla scoperta delle chiese rurali se siete in vacanza partecipate a questa iniziativa perché avrete delle sorprese l'appuntamento è alle 16.30 in piazza Danti qui riprende il tour alla scoperta delle chiese rurali ebbene si visiteranno quelle di Montalto Tarugo Cappuccini San Lazzaro San Venanzio un'iniziativa di Luca Cangini che è già riscosso un grande successo e poi vediamo qui questa pagina dedicata alla Val Cesano la reazione dei sindaci di Frate Rosa Massi Sabatucci di Pergola e Dell'Onti di San Lorenzo in campo nei confronti dell'impianto eolico di cui abbiamo già detto a Senigallia spingiamo per Ryanair al Sanzio all'aeroporto Sanzio in due anni raddoppieremo le presenze parla così Tassi che è Alberto Tassi presidente dell'Assotel Confesercenti Senigallia scelga ha detto ponendo la città di fronte ad una scelta da ultimatum così potremmo definirla vuole essere città turistica o una città fantasma ebbene se vuole essere una città turistica deve riproporre lo scalo del Ryanair anche nell'aeroporto di Falconara l'aeroporto Sanzio delle Marche e con questa notizia noi terminiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento come sempre a domani alle 7 puntuali intanto per le notizie del giorno alle ore 20.30 di questa sera con occhio alla notizia di Fano TV e intanto vi auguro una buona giornata e vi dico a risentirci iscriviti al canale ags